buongiorno telespettatrici e telespettatori di rossini tv benvenuti a casa rossini come ogni settimana il lunedì mercoledì venerdì in diretta appunto dagli studi di rossini tv e poi anche con numerose altre repliche durante la giornata e durante la settimana delle repliche parleremo dopo vi do i contatti per in qualche modo collegarvi con noi sono il numero whatsapp 351 708 9977 o la mail casa rossini chiocciolarossinitv.it oggi mancano 17 giorni alla fine dell'anno il 349 giorno del calendario gregoriano ma è anche una giornata speciale una giornata particolare una ricorrenza particolare vedremo dopo quante altre cose sono successe in passato come oggi ma il mese di dicembre del 1987 è uguale al mese di dicembre del 2020 per dire che cosa per dire che il 14 di dicembre che oggi era lunedì anche nel 1987 e nel 1987 succedeva una cosa speciale per la televisione italiana e specialissima per me andava in onda la sera alle 22 30 la prima puntata di una trasmissione che si intitolava indietro tutta è una trasmissione che è stata ideata da renzo arbore vediamo un filmato che ho fatto mandando in sintesi un po di immagini perché in queste immagini se qualcuno mi vede ci sono anch'io e qualcuno dirà dove 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 sono già passato in questa prima inquadratura in questa seconda sono proprio lì che canto un improbabile sigla perché qui noi stiamo cantando la famosa sigla la vita è tutta un quiz qui addirittura ballo il che già fa capire insomma a che punto ero della situazione qui sono io ecco forse qualcuno adesso comincia a riconoscere perché in questa ultima inquadratura ci sarò poi vedremo anche delle foto perché volevo anche così darvi un cenno su come è successo che io da pesaro sia arrivato in quel di roma tanti e tanti anni fa appunto per partecipare a questa che è stata poi a detta di tanti è una delle trasmissioni che hanno fatto la differenza appunto nella televisione italiana cioè le trasmissioni dopo le quali la televisione non è stata più la stessa era una grande parodia renzo arbore e nino frassica si erano inventati questa grande parodia insieme ai loro autori era la parodia di una gara tra il pubblico del nord ecco lì sono lì ecco mi vedete applaudo è una improbabile gara tra il pubblico del nord e il pubblico del sud in questa gara naturalmente c'erano dei quiz che non si riuscivano mai a fare c'erano tutte situazioni che non non arrivavano mai a termine e alla fine succedeva niente praticamente però tutto questo tenuto incollati al video milioni di telespettatori e ogni lunedì martedì mercoledì giovedì e venerdì perché andavano da cinque giorni alla settimana dalle 22 30 alle 23 30 dopodiché c'era il tg e tanto è vero che la sigla finale era vengo dopo il tg un'esperienza straordinaria per me ovviamente perché mi sono trovato catapultato lì in maniera molto fortunata e fortunosa vi dico solo che è capitato che andando a trovare una mia amica sono andato a suonare a casa di arbore e da lì è nata tutta questa possibilità e tutta questa eventualità che poi si è concretizzata non aggiungo altro chi ne vuole sapere di più magari un domani potrebbe anche chiedermelo e venire fuori qualcosa per raccontare perché so che tanti che hanno seguito quella trasmissione ancora se la ricordano ma gli anni sono passati sono tanti sono 33 anni per cui tanta gente non sa niente di quella trasmissione sarebbe bello magari anche tornare a raccontare come fu che un pesarese anzi eravamo due perché c'era anche peppino saponara si ritrovarono dalle parti di roma naturalmente basta chiuso qui andiamo al 14 dicembre che è il santo san giovanni della croce sacerdote dell'ordine dei carmelitani e dottore della chiesa lo vedete qua tra le cose successe un po più tempo prima di indietro tutta nel 1902 è stato posato il primo cavo telegrafico attraverso l'oceano pacifico 1902 finalmente c'era la possibilità di collegarsi e di comunicare attraverso l'oceano ecco questo è uno dei primi telegrammi senza inviare necessariamente per posta e per nave le proprie lettere le proprie corrispondenze nel 1911 sono periodi di grandi esplorazioni i componenti della spedizione capitanata da roald amus den esploratore norvegese sono i primi uomini a raggiungere il polo sud questa è un'immagine rarissima nel 1934 ha debutato invece un musical che si chiamava babe in thailand in italiano era stato tradotto come bimbi nel paese di balocchia con la partecipazione di staglio e olio stan laure e oliverardi hanno partecipato a questo musical nel 1934 nel 2003 invece siamo a venezia per la riapertura del gran teatro la fenice che era stato chiuso il 29 gennaio 1996 per il secondo incendio perché ricordiamo che la fenice aveva subito un altro incendio il 13 dicembre 1836 che ci sia qualcosa nel nome visto che la fenice è l'uccello mitologico che risorge dalle sue ceneri chi lo sa magari forse era meglio chiamare il teatro in un altro modo bene allora a questo punto entriamo nel vivo della puntata oggi è una puntata bellissima perché oggi è la puntata dei grandi ritorni e questo vuol dire che a casa rossini si sta bene iniziamo col dare il benvenuto e il bentornato a laura fontana di helio graf ciao laura benvenuta ciao ciao a tutti voi grazie grazie per questo invito ormai sono a casa e ormai sia a casa ma questo è il bello casa rossini deve nel tempo diventare proprio questo una bella casa dove andare a trascorrere un po di tempo piacevole e quando si torna a casa di amici quando si ospitano amici in casa la prima cosa è come stai dai tutto bene bene il lavoro va bene il lavoro va abbastanza bene benissimo sì sì siamo qui quindi è un'ottima un'ottima cosa per il lavoro e per per peso e per accettare l'amicizia non so questo mi sembra veramente il divanetto di casa tra l'altro l'hai personalizzato l'hai personalizzato perché ricordiamo allora per chi non avesse seguito la l'altra puntata nella quale laura è stata nostra ospite laura è titolare di helio graf helio graf è un'attività storica per pesaro che esiste al 1983 e che opera dall 83 nel mondo della stampa al punto di avere un claim una pubblicità stampiamo tutto su tutto questo è questo è diciamo lo slogan esatto si può usare sono i limiti però esagerate insomma però c'è molto in mondo esatto e allora ci ha portato già ci aveva portato il cuscino di rossini tv farò vedere pure la telecamera che è rimasto poi ovviamente a far parte del nostro arredamento ormai questo guai chi ce lo tocca però anche altro tanto per farci capire un altro cuscino che hai portato è questo con una foto perché ricordiamo che poi altre tipologie queste sono altre cose che si possono si possono fare e naturalmente l'altra volta avevamo parlato di tante altre cose ma io quando ti ho sentito ieri ti ho mandato un messaggino disturbando la tua domenica pomeriggio dicendo c'è qualche altra novità c'è qualcos'altro di cui parlare te mi hai detto sì sì potremmo parlare di qualcosa di speciale proprio molto adatto a questo periodo natalizio esatto pensavo proprio a un un elemento un macchinario particolare che abbiamo in negozio che un gran cubone un cubone arancione che si chiama print cube non so se c'è la c'è la foto da qualche parte comunque non importa non lo vedo guarda eccolo qua ecco questo cubone arancione che ti permette di di stampare in maniera immediata le foto direttamente dal telefono e quindi dal cellulare dallo smartphone o quello che abbiamo in mano quindi toccare anche poi subito con mano la foto che abbiamo scattato e che cosa fa che cosa fa ci si collega alla macchina in un con un sistema wifi oppure attraverso una piccolissima app gratuita senza pubblicità senza niente quindi non è ingombrante non va ad aderire ad altri formati che cosa fa stampa delle foto nel formato classico 10 per 15 la fotina classica chiamata cartolina sì esatto il formato cartolina proprio la più basica di tutte e nei formati più grandi che sono 15 15 15 20 ne abbiamo queste due possibilità da lì spazia in altro che possono essere le foto vintage quindi questa simil polaroide di una volta con lo spazzetto sotto dove si può inserire una piccola una piccola vedo in questa tanti auguri per cui si può anche essere anche bellino come cartolina d'auguri per l'inizio oppure per un altro evento e poi le le stampe collage che sono un montaggio di foto di più foto da tre a otto foto nello stesso nella stessa stampa rimanendo con quei formati che abbiamo che abbiamo elencato è bellino perché appunto arrivi lì ci devo stampare una foto cosa faccio esatto la foto si vuole avere in mano si torna e io ripenso quando si lasciava il rullino sperando che nessuno lo perdesse ma di solito non si perdeva e poi si aspettavano i 15 giorni 10 giorni poi ultimamente in effetti anche poco anche due tre giorni però si aspettava invece adesso si arriva lì col proprio cellulare si fa la scelta e si aspetta di avere in mano di avere in mano subito la foto senza dover per forza stampare per forza tutto il rullino quindi tutte le 36 24 cose ma ne voglio una ne stampo una voglio 10 ne stampo 10 poi nelle quantità ci sono altri sistemi quindi li conosciamo li realizziamo ma questo è fatto proprio per le piccole cose piccole cose immediate e già entrato nelle idea da quando che ce l'avete ce l'abbiamo da un anno esattamente un anno perché abbiamo acquistato prima poco prima del natale dello scorso anno sta prendendo piede però ancora una novità c'è chi arriva e non ci crede non è incredulo davanti a questa cosa che con il telefono guardo questa macchina mi collego faccio un clic nel cuore esce la foto e non è possibile qualcuno è veramente svalorito e sono contento perché da soddisfazione magari si percepisce poco ma vengono foto di buona qualità vengono foto quelle le foto classiche la foto che fa piacere avere che poi magari si mette nell'antico albumino delle foto a quel punto per poterle sfogliare con calma invece di scorrerle direttamente dal digitale ottima idea idea regalo idea divertimento idea particolare idea invenzione un po c'è qualche nonna che passa che lo vuole perché ormai le foto viaggiano tutto nella rete nel mondo dei cellulari e in mano non hanno nulla certo e allora vengono passano il negozio da me mi chiedono ma questa me la puoi stampare sì subito e lì aspetta e qualunque file che fa parte del rullino fotografico sì sì alla fine qualunque immagine di qualsiasi genere tanto ormai sono 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 quelle hanno tutte più o meno la stessa la proposta di questo ritorno all'antico che ogni tanto ci coglie ho letto tempo fa un po di tempo fa ormai che avevano fatto una app che funzionava così tu fai le foto no e non le puoi vedere no non le vedi come rullino esatto dopodiché le carichi e te le mandano già stampate proprio per ricreare la il patos del rullino magari tutto sbagliato qualcuno probabilmente più giovane questa questa cosa quell'ansia da rullino dice boh sarà venuto fuori niente capito allora avevo ricreato quest'app non so se ha avuto successo però a me è rimasta impressa perché c'è c'è del genio adesso la vado a cercare questa cosa c'è del genio capito stampi la foto e non la vedi boh sarà venuto qualcosa il massimo del rullino tipo che l'avevi scattate con l'obiettivo chiuso e poi tagliata puntualmente tipo teste tagliate poi c'era l'ultima no dell'ulino 36 quelli che tiravano proprio fino all'ultima si riusciva a farne una per più quindi la 37esima fotografia che tempi che tempi di indietro tutta per intenderci parliamo di quelli 30 anni fa ma anche 20 perché poi la rivoluzione digitale sostanzialmente di massa è arrivata con gli smartphone e perché prima è vero che c'erano le macchine fotografiche digitali però in qualche modo era era comunque il concetto di macchina fotografica la rivoluzione completa è arrivata con gli smartphone il primo smartphone l'ha inventato il buon steve nel 2007 in realtà e nel 2017 in realtà è stato scusami nel 2007 è stato presentato diciamo ufficialmente per cui in qualche modo da lì che è nato un po tutto tutto lo sviluppo a cui assistiamo oggi e questa è una però c'è un'idea poi sempre il mondo della foto a questo punto oltre che stamparla così in carta fotografica nelle dimensioni che dicevamo posso creare dei dei regali delle cose personalizzate per noi stessi o per qualcuno da realizzare andiamo al calendario che è un classico il calendarietto con tutto l'anno stampato su una pagina e la foto sotto oppure come questo che è un semestrale a sei mesi da una parte a metà anno giro ho un'altra foto e gli altri e gli altri sei mesi buona idea e da lì calendario quello con da tavolo o da muro con mese per mese quindi una foto diversa una foto differente per ogni mese no e questo qui è il classico da tavolo in questo caso cosa cosa ti devono portare in questo caso mi bastano un le 12 foto anzi 13 perché la copertina noi la stampiamo e 13 foto su un su una pendrive o comunque via mail in un supporto scelgono il modello di calendario perché ce n'è ovviamente più di uno per dare un pochettino di scelta e il risultato è questo appunto il calendarietto nel formato grande cioè il 3 che è questo nel formato a 4 che è quello più piccolino il mezzo formato ti aiuto perché ti vedo guarda la me che io lo faccio vedere lo faccio vedere qua e scegliendo il modello poi noi andiamo ad inserire la foto nel nello spazio dedicato e sotto o di lato troviamo tutto il calendario qui ci sono diverse tipologie per far vedere la diversità di calendari che ci sono esatto per cui anche in questo caso foto in pendrive sì in questo caso però anche scelta del layout della parte esatto esatto dei modelli più o meno colorati perché chiama la foto tutta bella grande c'è anche questo col calendario laterale i calendari si vedono come questo e si leggono perché qualcuno sei perfetto devo dire sì 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 che dopo questo se ne venderanno sei ottimo molto bene però basta che chiedono che devo venire i negozi anche a far vedere dopo diventerà no no adesso quello lì magari se lo vedono anche te come presentatore dei materiali ok comunque questa è qui è l'idea classica molti pensiamo al calendario no quando è la fine dell'anno che vorremmo avere poi i nostri ricordi eh esposti a casa ti faccio come sempre le domande sono qui apposta eh siamo ancora in tempo sì certo certo siamo in tempo quanti giorni ci vogliono poi per se uno pensa un regalo di solito ci sono cose che si realizza in giornata altre che richiedono due o tre giorni ma sotto in questo periodo eh riproduciamo sempre in continuazione eh tanto è che in queste questi sabati eh prima del di natale siamo stati aperti saremo aperti anche il prossimo che sono il 19 e occasionalmente anche la domenica 20 e entrambe le giornate il pomeriggio dalle 4 alle 7 così per dare un servizio in più non è una nostra abitudine tenere aperto il sabato domenica perché abbiamo anche un nostro servizio più dedicato alle aziende quindi lavoriamo in modo particolare da lunedì al venerdì però ci siamo in questi giorni se possiamo realizzare qualcosa in più qualcosa di 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 bello certo un'altra domanda così che ti volevo fare è questa una volta adesso meno perché adesso la qualità degli smartphone anche a livello di pixel è molto alto eccetera no di però una volta c'era questo problema no veniva portati di definizione venivano portati dei dei supporti che magari una volta ingranditi a formato eh venivano scalettati pisselati eccetera e voi fate comunque controllo qualità prima un minimo sì un minimo sì perché ehm il cliente che viene da me vuole ehm vuole vedere il meglio possibile le foto che ha soprattutto quando ne deve farne eh poche no quindi eh l'effetto visivo conta eh adesso come dicevi tu difficilmente trovi foto che tutto sommato non vengono bene ehm perché quello che abbiamo portato a divano ci permette di avere una soluzione e una qualità migliore e però può succedere quindi quando è proprio una cosa che è difficile da vedere sono io la prima di dire guarda non è molto bella la foto se vuoi te la stampo comunque perché comunque si può stampare certo certo altrimenti sei qualcosa di meglio no e dopo c'è anche purtroppo chi ha solo quello c'è pazienza però voglio dire ecco la sorpresa non è scongiurata ormai diciamo sì 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 ormai sì bene da tenere presente però che quello che vediamo sullo smartphone non corrisponde alla realtà è appunto perché eh il telefono ha una luminosità una una percezione che poi non è quella reale certo perché adesso c'è deve essere lì lo devi vedere bene ma non è detto che poi quello che stampi ci sono dei limiti ci sono dei limiti però esatto banalmente tecnicamente così tanto per dirlo a chi a chi già lo sa quando guardiamo il telefono vediamo della luce che arriva verso di noi e che passa attraverso dei colori quando guardiamo una foto stampata vediamo della luce che colpisce la foto e si riflette verso di noi per cui questo fa la differenza oltre al fatto che il supporto cartaceo ovviamente ha bisogno di essere pigmentato adesso oggi esagerò il colore e di conseguenza da lì vengono fuori delle cose che alle volte potrebbero non essere quello che ci si immaginava si spazia in un altro mondo che i colori che vediamo a monitor o nel telefono sono in RGB la stampa in quadricromia adesso questa è una cosa un po' e quindi risulta diversa anche il canale televisivo ha delle colorazioni che sono particolarmente accese certo però in stampa non sono quelle però abbiamo fatto vedere prima perché adesso se no con questa con questa cosa mettiamo paura la gente abbiamo fatto vedere prima che viene molto bene sì 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 tutto è tutto in mano mai abbiamo cose che che sono belle e bene non vi accorgete nemmeno della differenza tutto sommato quando prendete il calendario dite guarda che bella questa foto perché è vero perché l'abbiamo visto sono veramente delle belle foto per cui abbiamo le foto mi ero segnato cosa fate anche i puzzle con le foto sì 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 ci sono i puzzle classico puzzle da costruire personalizzato con la foto quindi piuttosto che stampare un foglio diciamo in carta plastificato meno io ho la mia foto da appendere quella foto lì la realizziamo nel puzzle in tutti questi pezzettini che volutamente li diamo smontati certo così te lo costruisci ti diverti anche magari anche difficile però è bello ma poi adesso in una scatolina consegniamo tutto è perfetto per passare il tempo si passa il tempo in famiglia mi manca il naso di Giovanni aspetto ho trovato le orecchie di zia Peppina nella foto di gruppo ecco guarda lo sto vedendo esatto vedi si sono il classico nel formato sempre a 4 o a 3 a 3 che è questo qui grande intendo questo qui grosso grosso e una tipologia a cuore un po' diversa un po' particolare proprio piacere magari a una coppia di fidanzate giusto per avere un oggetto differente in mano ed è bellino è ovvio che si vedono i pezzi ma c'è questa foto brillante sotto che poi tu vai a ricostruire ho visto anche magnetici sì perché c'è un piccolo puzzle piccolo piccolino con una quindicina di pezzi non è una cosa ma forse anche meno 10 pezzi non è esagerato sempre a forma di cuore questo è il piccolo oggetto quindi è un piccolo puzzle che tu monti e poi volendo lo attacchi sul frigo o sulla parte in metallo ma ne inventate una più del diavolo proprio veramente come ti dicevo l'altra volta la tipologia di dove riprodurre una foto gli oggetti sono tantissimi ci sono anche i vestitini per i nostri amici a quattro zampe sì esatto torniamo anche su qualcosa che avevamo visto perché mica è detta che tutti erano già in visione l'altra volta quando sei venuta per cui diciamo che guardiamo bene guardiamo bene qualcos'altro di nuovo a me questo qui mi fa ridere un bel po' questa della maglietta l'altra volta mi chiedevi sì esatto la maglietta se va ancora la maglietta questa della maglietta personalizzata del come posso dire questa cos'è? della renna diciamo la renna visto il periodo la renna può essere confusa anche con un alce ma mi sa che alla fine siamo lì però la renna però adesso la renna di Babbo Natale è giusto quindi la maglietta non la indosso solo io quindi mi faccio la mia foto sulla maglietta o quello che più mi piace ma si può distribuire su degli animaletti di peluche caldi morbidi e teneri come piccolo pensiero e qui vediamo la renna troviamo l'orsetto che è un classico l'orsetto è un classico quello che va tutto l'anno noi per la nostra passione abbiamo aggiunto l'asinello questo che è nello l'asinello è la nostra passione per gli agini di cui mi parlavi l'altra volta sì o degli orsetti più piccoli addirittura ci sono in forma di portacchiavi è ovvio che l'immagine è riprodotta in proporzione quindi non sarà una cosa grande quanto tutta la parte davanti e qui si può scegliere delle orsoni più grandi ma sono anche un po' ingombranti da portare diciamo che ci limitiamo a questi quando non vuoi che si dimentichino di te si dimentichino di te gli porti un orso a grandezza naturale e lo lasci a casa a quel punto o lo buttano oppure non si possono mai dimenticare di chi gliel'ha regalato torniamo poi non so se vuoi ci sono le cose più prettamente natalizie sì sì andiamo su quella natalizia che possono essere le palline di vetro come queste o in plastica come queste qua sotto che non so se si vedono ok anche qui viene riprodotta la nostra foto qui o una frase perché c'è chi comunque vuole magari una frase di auguri si può riprodurre e come queste sono anche degli altri tipi di ornamenti da appendere all'albero oppure la tazza anche questa tazza cosa che riproduciamo tante volte anche in versione natalizia con la propria immagine con un'immagine già fatta con un augurio c'è chi li ha fatti anche come presente per le ditte magari deve fare qualche regalo particolare ha utilizzato il suo logo e la stampa c'è un minimo di pezzi un massimo di pezzi tutte queste cose con la tecnologia che si ha oggi sono fatte dal singolo pezzo in avanti e quindi è molto molto comodo e si può accontentare quindi il cliente al meglio ecco questo lo sottolineiamo ancora allora non c'è limite di pezzi molto importante da ricordare potete ordinare anche un singolo pezzo e si fa in tempo questa è un'altra cosa che voglio ribadire perché qualcuno magari in questo momento dice capirai oggi è il 14 ma non manca 11 giorni a Natale si fa in tempo fino al 23 sicuramente ancora si fa in tempo ma è uno spettacolo questa cosa qua adesso sto ragionando sull'ultimi giorni le ultime ore di apertura ma fino al 23 siamo aperti orario classico aspetta che bisogna che tampono quello che hai appena detto si vai dillo non aspettate fino al 23 mi raccomando grazie se no l'hai detta grossa l'hai detta grossa io già li preparavo e te hai detto che fino al 23 ti trovi la fila fino al 23 tra che Babbo Natale voglio dire cerchiamo di comportarci magari di anticipare un pochettino si può anche il 23 ma anche prima anche il 22 anche il 21 insomma anche prima mi raccomando anche il 19 e 20 che metto che al pomeriggio siamo aperti esatto a proposito vedi la regia puntualissima ci manda il cartello con le aperture è straordinario Natale ormai si sono passate fino al 12 quindi rimangono sabato 19 e domenica 20 dalle 16 alle 19 bene 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 continuiamo a esplorare cos'hai? la calza l'altra volta ci sono affascinato tutti con quello con le squame quello con le squame le paillette allora l'altra volta vi ho portato un cuscino con le paillette questo è uno zainetto in questo caso rosso rosso Natale zainettino che chiedeva molto qui abbiamo queste paillette che io posso aprire e chiudere quindi sotto possiamo andare a scrivere il nostro messaggio una frase una piccola foto perché ovviamente qui la definizione si perde un po' con l'effetto delle paillette per forza perché è quello il pixel il pixel le perde in questo caso i pixel diventano le paillette diventano i pixel e c'è in versione rossa e in versione rosa magari come pensiero per una ragazza per qualcun altro vi ho fatto vedere anche il cuscino volendo sì e c'è il cuscino che vi ho fatto vedere la volta scorsa questa qui è una calza di Natale Natale all'americana appesa nel camino oppure da noi va molto per l'epifania esatto e anche questa qui si può personalizzare con la foto eventualmente una scritta una frase così poi ognuno ha la sua calza per riporre i propri i propri doni che Babbo Natale porterà e scenderà giù dal camino o la Befana con le scarpe tutte rotte siamo lì Santa Lucia che è appena passata perché noi da noi non è in uso ma saliamo un po' è vero è vero ma Santa Lucia la Befana io ne ho parlato spesso con mio padre erano le due vere feste prima della guerra per intenderci quando erano giovani loro i nostri i nostri anziani mentre il Natale si è imposto poi dopo anche perché Santa Lucia arrivava presto ed erano robette buone da mangiare ed era in proiezione diciamo del periodo festivo la Befana era il punto d'arrivo per cui si tenevano tutti i bambini sulla corda per tutto il periodo delle feste e poi gli si dava anche perché le famiglie che quella volta non erano insomma parliamo di famiglie povere non potevano permettersi regali a Natale e all'Epifania per cui si allungavano i tempi e si arrivava lì Natale è arrivato è arrivato un po' dopo però noi ci siamo ci siamo dentro abbiamo fatto veramente una bella panoramica di cose e a questo punto il consiglio è sceglietevi una bella foto perché visto che poi si va a fare qualcosa che poi rimane perché è vero che adesso alcune cose sono prettamente natalizie però il calendario resta eccetera impiegate un po' del vostro tempo per fare questa ricerca tra le tante foto che avete tra tutto quello che avete messo via tra i 65.000 scatti che avete fatto e che avete nel vostro smartphone oppure peggio ancora nel vostro hard disk perché lì ce ne stanno ancora di più si scarica la schedina della macchina fotografica ce ne stanno ancora di più fate una bella scelta una bella selezione in modo da arrivare perché poi credo che si perda più tempo nel fare la scelta sì è vero dai tempi che mi dai tu ci vuol poco a fare le cose se uno ha già le idee esatto e dopo bisogna comunque valutare un pochino quello che spesso il cliente arriva che ma mi piace questa però è bella anche questa qua però così allora una seconda scelta ci vuole sempre perché magari un oggetto tipo una pallina che ha una sagoma tonda o un portachiavi che può essere a cuore ha bisogno di spazio certo e per avere questo spazio magari si preferisce una foto che non sia tipo le persone al limite ma che abbia un po' di sfondo le persone al centro allora lì si può inserire bene l'oggetto quindi un paio di soluzioni va bene ma non magari 10 foto per poi sceglierne una perché sì siamo lì anche per questo ma a quel punto non è più il lavoro del singolo oggetto diventa poi comunque un pochettino più impegnativo un pochettino più lungo però fattibile ti faccio anche un'altra domanda sempre tecnicamente dimmi fate anche un lavoro di riquadro ritaglio raddrizzamento eccetera o la foto che ti porta all'attacchi diciamo proprio una cosa minima minima per gestirla nell'oggetto di più diventa un foto ritocco quindi diventa un servizio un pochettino più complesso anche più costoso quindi magari lo evitiamo magari qualcuno se l'aspetta ti porta la panoramica del mondo perché voleva il dettaglio e invece non va bene insomma no in quel caso fate voi un minimo di editing e di scelte di foto ritocco per finalizzare a quello che può essere il risultato insomma magari portate anche l'originale questa era l'originale io cosa dici te dici bene esatto perché qualcuno ritaglia prima e poi io magari ho bisogno invece di avere un pochettino in questo caso un pochettino più di sfondo quindi lì e soprattutto se mi permetti posso dire non gli screenshot perché lo screenshot è la foto dello schermo della foto che ho nel telefono esatto in quel caso se tu mi chiedi una stampa magari un ingrandimento un 50x70 un 70x100 puoi fare un poster per casa tua e non va più bene esatto ma a volte non va bene non vi dico un oggettino piccolo così perché la definizione comunque se la cava se la cava esatto ma fare un calendario poi si vede torniamo al discorso del pixel sì perché ricordiamo che tecnicamente la definizione lo screenshot in questo momento è la peggior qualità del momento sì perché per capirci con chi magari non conosce la parola ma sa il gesto è fare la fotografia dello schermo praticamente i nostri attrezzini i nostri telefonini ci permettono di fare la foto di quello che stiamo guardando in quel momento sullo schermo ovviamente facendo questo la qualità è molto bassa perché non ce n'è di necessità di fare una qualità alta perché lì è e lì dovrebbe rimanere se voi volete trasferire quello che dovrebbe rimanere lì invece su carta e farlo diventare un poster 5x3 diventa un problema esatto adesso ti prendo come promotore per i sistemi digitali per le cose si è perfetto va benissimo che meraviglia non che non si faccia si fa uguale anche da quello però come dicevi tu torniamo a un livello di qualità che è un peccato è un peccato questo è anche magari non la trovo più quella foto la vado a scaricare l'avevo pubblicata su facebook la vado a scaricare e viene peggio era meglio l'originale quando l'avete caricata perché facebook ha fatto tutto un lavoro ragazzi la tecnologia è una roba sta migliorando anche lì perché anche i programmi di messaggistica prima andavano a ridurre completamente l'immagine adesso per fortuna li tengono buoni quindi si può passare diciamo la foto attraverso i vari i vari sistemi Laura indovina è finito il tempo annaggia ho detto che stavamo bene qui a chiacchierare insieme benissimo allora grazie bene niente grazie a te per essere tornata per averci raccontato ancora delle novità perché pensavamo l'altra volta di aver già spremuto un po' tutte le potenzialità di Elio Graff invece c'è sempre qualcosa di nuovo andate a trovare Laura e tutta la sua famiglia e tutti i suoi collaboratori tutto quanto andate a impegnarla in questi giorni non proprio il 23 ma in questi giorni perché 23 per i ritiri dai ci ha comunque promesso che riuscite ad avere tutto quello che vi serve prima di Natale per cui meglio di così insomma direi che siamo a posto grazie a questo punto non lo so se ci vediamo prima di Natale per cui intanto ti faccio gli auguri per l'attività e per le feste poi sicuramente invece alla ripresa dopo tornerai a raccontarci qualcos'altro di divertente va bene volentieri grazie mille auguri a te e a voi tutti a redazione anche siamo tornati ve l'ho detto che oggi era la giornata dei ritorni e questo dopo Laura Fontana di Elegraf è un altro ritorno ancora più importante se vogliamo ma mica per l'azienda perché lui è quello che ci ha tenuto a battesimo Giovanni Arduini buongiorno Giovanni buongiorno è stato quello che ha rotto il ghiaccio nella prima puntata dico bene ne ricordo bene per cui allora mi raccomando il microfono come già nella prima puntata Giovanni Arduini titolare dell'arte del riposo un'azienda che abbiamo conosciuto che voi conoscete in quanto è molto presente sul nostro canale sia attraverso degli speciali che hanno approfondito molto l'impostazione di questa attività sia attraverso dei promo e degli spot tra l'altro ne ho visto uno nuovo visto bene Giovanni c'è un nuovo spot mi raccomando il microfono ho visto un nuovo spot sempre con la con la bella presenza della nostra ballerina ma ridisegnato un po' vero? ridisegnato in stile natalizio ridisegnato un po' riprogrammato riprogrammato bravissimo con promozioni natalizie e un po' di decorvi natalizi allora le promozioni natalizie ci arriviamo fra un po' per chi non avesse seguito siete scusati per questo anche se poco la prima puntata che era il 16 novembre Giovanni Arduini appunto titolare di questa azienda importante arriva alla vendita attraverso un percorso che fa di lui una delle persone più esperte nel settore e nel territorio dico bene? in quanto anni di attività? sono 37 anni che sono in mezzo ai materassi è stato un percorso come dicevi tu lungo dall'apprendistato vero e proprio a avere la mia azienda a fare tutte le varie esperienze e conoscenze tra materiali tecniche cose varie arrivare a avere oggi nel mio piccolo perché dico sempre nel mio piccolo perché non sono un'azienda di quelle leader a livello internazionale ma nel mio piccolo avere una a livello qualità prezzo secondo me molto molto valida molto valida abbiamo dei bei riscontri e arriva a questo proprio con questa idea che è nata un po' di anni fa che è quella di passare dalla produzione anche alla vendita praticamente lo ricordiamo brevemente il percorso attraverso appunto tutta una serie di esperienze professionali è arrivato alla produzione questa produzione veniva proposta al pubblico attraverso la presenza vi è capitato probabilmente nei centri commerciali e in tutta Italia all'inizio poi abbiamo fatto per anni centri commerciali centro nord Italia abbiamo fatto con una mia vecchia società che avevo poi dieci anni fa ho deciso di uscire e di fondare una mia piccola azienda da zero ma finalizzata solo esclusivamente alla qualità del privato non ai numeri la mia vecchia società faceva numeri perché faceva diverse tipologie toccava rivenditori negozianti distribuzione nautica nautica grandi numeri parlo tipo navi da crociera queste cose qua quando ho riaperto ho detto no voglio fare usare la mia esperienza concentrarla solo per il privato ho cominciato a fare la venita al privato sfruttando la mia esperienza nei centri commerciali fino ad avere un mio punto venita fisso che è quello che oggi abbiamo da un anno e mezzo qua a Pesero in strada Montefeltro ricordiamo che è in strada Montefeltro e come riferimento anche se con questo sistema si fa pubblicità fortunatamente non alla concorrenza ma a una delle cose più riconoscibili che ci sono che è Media World praticamente dall'altra parte della strada non scavalcate il guardrail mi raccomando fate il giro non bisogna dirle queste cose perché un attimo fate il giro con la rotatoria poi entrate nel posto giusto perché appunto l'arte del riposo si trova al secondo piano di questo stabile nel quale che si trova appunto di fronte a Toys a Media World su quella via all'insomma ecco lo vediamo lo vedete qui lo riconoscete ed è molto più che un negozio molto più che uno showroom è uno spazio veramente molto ampio nel quale sono esposti e ben disposti tutti tutte le tipologie di materasso sui letti messe sui letti di un tuo partner non mi dicevi sì noi abbiamo diversi partner in realtà ci sono partner di letti in ferro di letti imbottiti di basi e reti e lì abbiamo esposto diciamo tante varianti di materiali ma anche su quelle varianti su richieste del cliente possiamo fare ulteriori variazioni cioè tu arrivi e dici mi piace questo qui di base però lo vorrei leggermente più si può fare o bisogna avere una misura si può fare per cui dici io lo voglio col tessuto antibatterico lo voglio col tessuto termico lo voglio col tessuto naturale e non cambia il prezzo quando dobbiamo fare modifiche a maggior parte si chiedono modifiche di misura modifiche di altezza o larghezza la differenza è talmente poca che ci dicono ma come abbiamo girato ci hanno chiesto delle cifre e dicono sì ma perché noi siamo diretti alla fabbrica e mettiamo giusto il costo dei materiali non andiamo a fare speculazione tra i vari passaggi e i vari costi tu capisci che se ho un'azienda che produce 500 materassi al giorno gli fai fare un materasso diverso è un problema ho notato che produce 10 fanno uno diverso è un po' meno problema diciamo che su 10 sono tutti tra virgolette diversi nel senso sono tutti uguali tutti diversi la stessa cosa quasi infatti ti faccio ridere una settimana fa la prima volta che mi capitava avevamo diversi materassi per cui esteticamente stesso tessuto internamente interni diversi da consegnare abbiamo consegnato i materassi sbagliati tutti tornati indietro li cambiavano non è il tuo quello è quell'altro perché solamente dall'etichetta vedevi il modello che il cliente era diverso ma nemmeno scaricarlo erano tutti uguali anche la misura era uguale perché erano tutti due fuori misura due due con il suo tessuto ma internamente erano diversi mi dovevo fare avanti indietro due volte e cambiarli perché siamo accorti perché l'abbiamo sbagliato via torna indietro scarica e ricarica riporta via e non è successo ma può succedere anche quello come un pasticcere che incarta due torte e porta la torta con la data sbagliata erano uguali cambia assolutamente il nome era uguale tutto una volta chiuso una volta chiuso insomma dopo noi abbiamo l'etichetta fuori con il nome e nella consegna è stato preso il materasso per sbaglio uguale neanche il cliente se ne accorgeva se ne lo dicevamo noi perché esteticamente era uguale certo e abbiamo fatto questo così voglio per dirti le persone talmente tanto che è difficile a volte anche di stare attenti a non sbagliarsi allora io che sto sempre molto attento a quello che i miei ospiti mi raccontano ascoltando mi viene subito la domanda quella che però so che serve ed è questa ah perché voi fate anche consegna a domicilio si noi consegniamo noi direttamente consegniamo mi raccomando il microfono sempre vicino noi consegniamo direttamente non usiamo trasportatori proprio perché noi ti portiamo il materasso a casa se il cliente vuole ce lo permette glielo posizioniamo sul letto gli diamo le spiegazioni di manutenzione e verifichiamo che sia tutto giusto misure e tutto ma a volte verifichiamo anche che il letto sia a posto perché molte persone pensano di avere una buona base d'appoggio una buona base e poi vai gli dici guarda che se la rete manca una doga oppure è storta ah non mi era accorto capito ma noi lo diciamo non perché vogliamo vendere ulteriore accessorio ma perché vogliamo che il nostro materasso lavori al meglio perché se domani ci dicono il materasso però sa è e poi la rete sotto non era buona ci dispiace perché abbiamo fatto spendere dei soldi a un cliente che poi non ha fatto il lavoro che deve fare allora preferiamo far direttamente noi la consegna per verificare e spiegare bene le cose di questa domanda confesso che sapevo già la risposta di quella che ti sto per fare invece non la so la risposta per cui è a rischio la domanda è ma ritirate anche per smaltire i materassi vecchi guarda l'abbiamo fatto fino a qualche mese fa allora lo smaltivamo ritiravamo abbiamo fatto un periodo che lo facciamo gratuitamente altrimenti aveva un costo oggi non riusciamo purtroppo a farlo neanche con un costo perché l'azienda che raccoglie diciamo i rifiuti o raccoglie fa smaltimento ha definito il materasso un rifiuto speciale per cui abbiamo difficoltà a smaltirli abbiamo difficoltà allora marche multiservizi non li ritira chi fa smaltimento con i cassoni quelli grandi cassoni scarrabili che portano via non sa dove buttarli oltre al costo eccessivo che avrebbero non sa dove buttarli io mi trovo adesso ad avere una parte di capannone con dei materassi vecchi da smaltire che sto cercando come smaltirli proprio perché a noi azienda ci hanno vietato di smaltire i rifiuti usati noi possiamo smaltire solamente i rifiuti nuovi di produzione ah beh cioè gli scarti di produzione si poi adesso anche i scarti di produzione li hanno limitati li hanno limitati per cui dobbiamo fare suddividerli diversamente ancora ma ne dividono anche quelli per cui adesso noi per smaltire i rifiuti usati il materasso sinceramente abbiamo un problema infatti chi ce lo chiede dice guardi noi lo faremo volentieri perché sappiamo che è un servizio mentre bisogna dire una cosa il cliente privato ha un servizio rifiuti ingombranti gratuito dal manco di servizio diamo questa indicazione per cui basta telefonare loro ti dicono veniamo giù il 15 mattina e lo portiamo via gratis noi non sappiamo dove metterlo per cui diciamo sempre invece di farlo portare via noi ma anche se lo facessimo a pagamento ce l'avete gratis dove avete problemi perché molti dicono ah ma io abito al quarto piano come lo porto il 18 lo portiamo giù noi ok ti diamo questo servizio gratis ma non possiamo portarcelo via per cui ti diamo in una condizione che puoi mattirtelo gratuitamente perfetto e visto che stiamo parlando di entrare nelle case dei clienti ricordiamo che questa cosa si può fare anche prima nel senso che voi andate anche a vedere sì noi andiamo a fare sopralluoghi andiamo a fare diciamo così consulenza a volte perché sono persone che fanno difficoltà a uscire o raggiungerci o per vari motivi sono persone anziane che magari non sono neanche abili a verificare misure altezze o cose varie ora noi andiamo a casa logicamente non possiamo portarci tutti i campionari di materassi ma andiamo a casa con l'esperienza che abbiamo innanzitutto verifichiamo la misura tutto quello che sia giusto e poi vedendo le persone e parlando collocando con loro per i problemi che hanno le esigenze che hanno gli consigliamo diciamo che al 99,9% non abbiamo problemi diamo questo servizio gratuitamente dice io chi è che devo acquistare i tempi visto che anche prima con Laura abbiamo parlato invece dei tempi veloci perché c'è il Natale tempi veloci ora qui c'è una c'è una doppia una doppia faccia della medaglia allora producendo noi artigianalmente il sarto non abbiamo il vestito nata a cappani da darti ok chiediamo una settimana di 10 giorni chi è che da noi viene e dice lo voglio per stasera che non va a dormire ci mette in difficoltà certo invece chi è che vuole e ci dà tutti più o meno hanno una settimana di tempo da darci noi settimanalmente produciamo e consegniamo per cui diciamo una settimana a barra 10 giorni il materasso nuovo è fatto a casa che sia misura standard che sia personalizzato anche in questo periodo dell'anno noi fino a questa settimana noi abbiamo chiuso gli ordini di sera oggi vanno in produzione venerdì consegniamo quelli di questa settimana vorremmo fare un miracolo consegnarli dentro Natale vediamo se ci riusciamo il materasso ha una sua stagionalità oppure non si percepisce l'alternarsi delle stagioni il periodo estate inverno eccetera per le vendite produzione allora si ha una sua stagionalità diciamo che il periodo che comincia il ricambio del materasso a parte quelli che hanno esigenza tutto l'anno ma chi è il grosso del ricambio viene fuori con l'inizio della primavera dopo Pasqua la mentalità l'eufruismo diciamo via all'inverno arriva la primavera arriva e rinnovo pulisco faccio tutti imbiancano tutti cambiano e il materasso è una delle cose che viene comincia a girare come ricambio come fino a Natale di solito perché poi c'è chi ce lo regala per Natale chi ce lo regala con il tredicesimo fino a Natale poi ci sono logicamente i primi mesi dell'anno dove tutti ci rinchiudono col freddo un attimo si ma quando arriva al caldo andiamo a vedere aspetta un attimo diciamo si ha questa stagionalità qua c'è per cui diciamo che è un articolo che va sempre che però ha i suoi momenti clou e sicuramente i suoi picchi e sicuramente forse in questo momento oltre a Natale si aggiunge anche questa sensazione latente ma molto presente di dover passare molto tempo a casa ma diciamo che è quello in alcuni casi aiutato in alcuni settori perché stando a casa vedi veramente quello che non funziona perché tu entri esci prendi e fai allora parlavo con colleghi che hanno mobilifici chi fa cucina chi fa ha detto elettrodomestici ho un amico che è un responsabile di una grande azienda di elettrodomestici dopo il lockdown abbiamo avuto un esploi perché tutti cambiavano o il forno o quello o quell'altro perché stando a casa sono andati a conto che era vecchio non funzionava allora di cambiarlo abbiamo avuto allora il primo lockdown che abbiamo avuto abbiamo riaperto a fine maggio a maggio a fine aprile mi diceva noi a maggio abbiamo fatto quasi il doppio del fatturato del maggio dell'anno prima come sono usciti tutti venuti ad acquistare perché tutti avevano quello rotto abbiamo tutti aperto gli occhi sulle pecche che avevamo in casa per cui abbiamo subito pensato a rimediare adesso che c'è questa ariaccia diciamocelo perché ancora non si è capito neanche cosa dovrà succedere nelle prossime settimane la sensazione è quella se devo stare a casa voglio stare bene insomma per cui voglio guardarmi intorno sapendo che è tutto a posto e soprattutto quando vado a dormire voglio dormire bene tranquillo perché questa è e su questo poi tra l'altro siamo nella fase quasi conclusiva questa è un po' l'idea anche cioè che dormire non è una cosa che siccome bisogna farla per forza facciamola come viene cioè facciamola bene perché nel dormire si nasconde il segreto per poi stare svegli bene il benessere giornaliero esatto ma guarda allora ci sono ci sono statistiche ci sono ricerche fatte molti dico sotto a letto ma mi sveglio la mattina è più stanco della sera no ma durante la notte giro mi rigiro molti danno ci danno tante spiegazioni avrò preso tre caffè in più avrò fatto quello ho fatto quello molte volte è proprio statisticamente provato con test fatti su persone il materasso non giusto non adeguato per la postura per il peso per l'esigenza la persona cosa succede il cervello durante il sonno vuole deve trovare il suo relax e il fisico rimane contratto allora che fa lo gira lo muove lo muove tu ogni volta che ti muovi il tuo sonno si alleggerisce per cui tu dormi ma non riposi invece se tu vai giù ti metti giù e ti giri hai meno meno movimenti attaccano quei macchinari dove non lo vedono tu hai un sonno più profondo e dormi anche meno ore cioè se tu stai nel letto 8 ore e non ti riposi con il materasso migliore però su diciamo 6 ore ti potrebbero bastare e sei riposato certo per cui non bisogna sottovalutare il materasso come tante altre cose è chiaro la panoramica che mi ha dato direi che è proprio molto completa io mi auguro già non oso chiedertelo ma mi auguro già che dopo l'altra volta qualcuno sia venuto a dire ti ho visto in televisione ti conosco e ti riconosco quello fa quello fa l'effetto poi magari uno decide di comprarlo o non comprarlo il materasso però comunque la popolarità la televisione dà questa popolarità torniamo al discorso di prima che poi facciamo noi le consegne e tutto a volte vado io a fare consegne direttamente allora venerdì questo venerdì se non sbaglio ci hanno fatto ma lei è quello che era in televisione io l'ho visto vedi vedi ci siete ero io ero io esatto non c'è bugia qua siamo proprio veramente col titolare di questa attività con Giovanni Arduini con cui siamo stati oggi avevamo detto che parlavamo della tua passione per il beach tennis e poi il tempo è volato ma dici qualcosa è un'attività sportiva vera fai tornei oppure passi un po' di tempo tornei ho iniziato nasce tutto da giovane che mi piaceva giocare a tennis poi ho smesso perché non ce la facevo con il gomito del tennista dopo tanti anni ho provato una racchetta alla beach tennis si parla ormai cinque o sei anni fa secondo di più e ho cominciato a giocare poi scherzo ho cominciato a allenarmi a prendere maestro a tornei amatoriali niente di più adesso sinceramente è da prima del lockdown di febbraio che sono fermo perché mi sono fatto male alla spalla non riesco a recuperare la spalla per cui siamo qui siamo fermi anche l'estate l'ho passata a guardare gli altri giocare vediamo il futuro mi piacerebbe ricominciare ma è un'incognita in compenso a dormire benissimo perfetto quello a dormire riposiamo bene esatto riposiamo bene bene allora noi ti ringraziamo per essere stato ancora con noi c'è qualche offerta speciale sul Natale hai detto c'era qualcosa allora adesso noi fino a Natale abbiamo uno sconto fino al 50% su tutti i listini diamo la possibilità di acquistare a tasso zero 12 rate con il pagamento a 90 giorni nella prima rata per cui uno può acquistare adesso comincerà a pagare a marzo e lo pagherà in 12 rate per poter dare un aiuto ho visto anche il discorso lockdown difficoltà di alcune persone anche tredicesime o cassegazione cose varie di poter acquistare insomma certo più di così insomma non si può ringraziamo ancora Giovanni Arduini per essere venuto a raccontarci la sua azienda e raccontarci queste sue offerte e chissà magari ci rivedremo dopo tutto il periodo natalizio per raccontarci vicendevolmente com'è andata e come sta la spalla buona la spalla speriamo bene ok grazie ancora grazie a voi e adesso c'è una dedica vero? c'è la dedica allora qualcuno ricorderà che all'inizio avevo raccontato che oggi sono 33 anni dalla prima puntata di Indietro Tutta per cui io sono andato a recuperare la sigla di Indietro Tutta che si intitolava La vita è tutto un quiz come ricorderete e ho il video originale della sigla della sigla della prima puntata in questo video qualcuno potrà divertirsi a cercarmi perché io ero lì nello staff nel gruppo e qualcuno potrà divertirsi la dedica è buongiorno Casa Rossini vorrei congratularmi con Luigi che dopo l'anno di studio e impegno è finalmente riuscito a diplomarsi come operatore socio-sanitario congratulazioni ancora Luigi farai parte dei nostri eroi congratulazioni anche da parte nostra e lo vediamo con sì la vita è tutto un quiz dalla sigla della prima puntata di Indietro Tutta 14 dicembre 1987 e poi ci vediamo con Antonino Di Gregorio la sigla di Indietro Tutta è finita qualcuno mi avrà visto mi avete visto ero riconoscibile nonostante i capelli neri nonostante fossero passati appunto a 33 anni chissà allora dopo questa piccola caccia al tesoro fatta appunto per cercare di trovarmi nell'ambito della sigla Indietro Tutta torniamo in studio con Antonino Di Gregorio ciao Anto e buongiorno grazie per questo invito bellissimo sono contento di essere già tornato ma sì anche perché ci eravamo lasciati con un interrogativo che era sarà vero che i libri sono il regalo preferito c'è tutto uno storico che ce lo dice però a questo punto te hai anche una settimana di tempo da quando abbiamo fatto la puntata per confermarcelo allora è molto bello il fatto che si stia si stia andando molto in libreria e sì sicuramente sì e ancora una volta anche questo Natale i libri sono uno tra i regali più scelti sicuramente mi confronto quotidianamente con diversi librai della nostra città e poi comunque anche i dati di vendita online che esiste e grazie a queste due chiusure a questa situazione un po' particolare che stiamo vivendo quest'anno addirittura l'ordine online ha recuperato molto piede sui librai che comunque in tutta Italia i librai si stanno organizzando e si sono organizzati con diversi modi per consegnare direttamente non bypassando del tutto ma comunque per essere un'alternativa valida al sistema di ordine online quello più famoso quello che conosciamo tutti o anche quelli italiani locali che esistono anche quelli i librai cosa hanno fatto hanno creato delle forme di distribuzione attraverso un ordine su un portale ma che arriva direttamente a loro e quindi l'ordine arriva sul portale ce ne sono due che sono piuttosto importanti uno è book dealer e l'altro libri a casa una cosa di questo genere non me li ricordo e comunque appunto tu vai sul portale scegli la libreria alla quale vuoi fare l'ordine la libreria ti porta lei direttamente a casa gli ordini quindi c'è chi lo fa in maniera privata come alcuni che conosciamo noi di qua in città e c'è chi invece passa da questo sistema e invece tutta questa gente che va in giro e che preoccupa tutti qualcuna va anche in libreria comunque perché sono tutti preoccupati è pieno di vietti in giro che gira che giro state a casa da una parte è vero state a casa ma se dovete proprio uscire insomma un saltino in libreria si può fare allora ti devo dire questa cosa che è molto bella stavo parlando proprio questa mattina sono come si può vedere passato in libreria a prendere qualche titolo perché quando mi hai detto parliamo ancora di libri sfondi un portone aperto con me e parlavamo proprio di questo fine settimana appena trascorso ovviamente le librerie hanno un limite di persone che possono sostare all'interno per ovviamente relativizzato allo spazio che hanno a disposizione e mi hanno detto tutti che hanno avuto la coda fuori per tutto il fine settimana quindi è una bellissima notizia per loro e per chi legge bene e allora visto che andiamo da chi legge iniziamo perché se no devo fare una gran corsa ci sono tanti libri poi facciamo come l'altra volta che devo fare esatto allora io ho portato ancora la classifica perché diciamo sempre che ci sono classifiche sarà divertente se mi inviterai a gennaio fare la classifica dei più venduti di quest'anno esatto del 2020 perché poi come dicevi tu l'altra volta su tutto i libri e sulla lettura c'è sempre la classifica ufficiale della settimana che è di solito questa e poi come dicevi tu l'altra volta ci sono le classifiche specifiche per generi quindi per genere per narrativa italiana straniera saggistica varia ragazzi chi più ne metta copertine gialle copertine rocce esatto ma poi per esempio Robinson fa la statistica della nostra redazione cioè la classifica scusami della nostra redazione quindi c'è la classifica ufficiale dei libri più venduti ma poi tutti coloro che scrivono su Robinson dicono oh per me è questo per me è quest'altro ma infatti quando questa tua presenza diventerà una rubrica cosa che presto sarà faremo la classifica mia e tua va bene perfetto tanto poi noi parliamo mai di libri allora io ho portato la classifica e ho portato i quattro libri che dei quali l'altra volta non avevamo parlato che sono presenti in classifica e parto da questo che per me un capolavoro è un bel tomone è il quarto della serie sul medioevo di Ken Follett che arriva dopo i pilastri da terra mondo senza fine il terzo non mi ricordo mai il titolo incredibile e questo è fu sera e fu mattina ed è finalmente la scoperta dell'america quindi non vi sto dicendo una cosa che c'è all'ultima riga giuro è una cosa che si capisce da quasi subito quindi non vi sto spoilerando niente e da quando è uscito ovviamente Ken Follett che è il mio dandy preferito in assoluto è lì in classifica e rimane lì poi anche questo è uscito da qualche da qualche settimana da qualche forse un mesetto buono cambiare l'acqua ai fiori di Valéry Perri edizioni E.O. e anche lui è in classifica ormai vado a vedere bene scusami Andrea si arrabbia ecco facciamo così e anche lei in classifica da qualche settimana questo è un libro del quale si sta parlando molto ne parlano tutti i librai io non l'ho ancora letto perché di solito i libri che arrivano in classifica subito tranne i miei autori preferiti lascio il possono aspettare si aspettano ci siamo di altre volte però non è detto che non lo faccia lo suggerisco no si vende da solo in classifica quindi non lo suggerisco e poi invece è uscito da un paio di settimane non credo di più forse addirittura si un paio di settimane uno dei dei best seller in assoluto italiani Maurizio De Giovanni con la sua saga ti metti veramente il libro davanti alla faccia così si lo sono fatto apposta uno dei best seller è che Maurizio De Giovanni come dicevamo Carrisi che ovviamente dopo che ne abbiamo parlato la settimana dopo era in classifica merito nostro chiaramente esattamente Maurizio De Giovanni che con questo nuovo libro della saga dei bastardi di Pizzo Falcone Fiori per i bastardi è subito in classifica anche lui e qui anche lì c'è poco da dire è una saga che continua da credo che questo sia il sesto settimo libro della saga forse anche qualcosa di più come avevamo fatto l'altra volta per Carrisi perdonato Carrisi è uscito settimana scorsa il nuovo di John Grisham quindi settimana prossima sicuramente in classifica e questi sono sicuramente tra i libri che verranno più regalati in questi periodi allora in realtà ci sarà un inserimento di Le Carré perché in seguito alla sua morte ieri se non sbaglio e come sempre succede quella cosa assurda che non ci diciamo sempre sarà strano ma tanti decideranno magari non avevamo mai letto un libro non avevamo mai letto niente e adesso è arrivato il momento e così comunque tutti i libri molto molto comunque importanti di genere ma molto importanti e sicuramente faranno un debutto in classifica imprevisto probabilmente e questa volta non lo so e dici questa volta non lo so perché sicuramente lui è uno scrittore che piace piace molto ma i suoi affezionati quindi probabilmente curiosi ma non so se arriverà in classifica sicuramente se ne venderanno tanti ne stanno già parlando qualcuno ha detto addirittura che se non fosse stato confinato nell'ambito del suo genere poteva addirittura mettere un Nobel per la letteratura addirittura si è arrivati a dire questo per cui già solo questa enfasi che viene data inevitabilmente quando muore un grande personaggio probabilmente qualche stimolo all'acquisto lo farà secondo me verissimo però lui ha scritto così tanti titoli che è difficile che uno riesca ad entrare in classifica era quello quello che sostieneva allora direi adesso non so tieni tu il tempo perché io ci mancano 5 minuti allora faccio veloce veloce ancora stavolta come l'altra volta allora recupero i titoli che avevo portato già l'altra volta che volevano essere i miei suggerimenti e non avevo fatto in tempo a darli e sono in particolare tre uno che è questo che si intitola il grande me di Anna lei deve leggerla sempre perché il primo cognome non me lo ricordo mai Giuricovic dato ed è una storia pazzesca straziante lei è molto brava racconta la storia di tre fratelli che accompagnano verso la fine il loro padre malato di cancro ed è un libro intimo 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 per chi ha già vissuto questi momenti e per chi vorrebbe forse un po' anche prepararsi bellissimo ve lo suggerisco regalatelo e regalatevelo questo è uno straziati di tutto il mondo è molto bello indipendentemente dall'argomento poi questo qui invece Angelo Carotenuto le canaglie edito da Sellerio c'è giusto ci siamo ci sei ci sei sei tu guardati pure lì che sei tu a parte che a me Angelo Carotenuto piace moltissimo come penna lui è un giornalista che ha scritto per la Gazzetta ha creato riviste eccetera eccetera a me piace proprio come scrive lui racconta una storia in questo libro che io sono relativamente giovane racconta una storia di una squadra di calcio della quale io non conoscevo niente dal 1971 al 1977 ed è la Lazio e tu dici ma quando mai sei parlato della Lazio ma soprattutto perché dovrei leggere un libro esatto perché non parla veramente solo della Lazio ma si inventa un espediente cioè il suo protagonista la sua voce narrante è un fotografo che prima si occupava di bella vita infatti faceva le foto della dolce vita e il suo direttore di giornale lo manda a seguire la Lazio e la cronaca nera e infatti lui cosa fa racconta la Lazio e la cronaca nera siamo negli anni in cui c'erano gli anni di piombo i rapimenti eccetera eccetera e quindi è il racconto di una certa Italia e di una certa squadra per esempio ci sono delle cose di questi i protagonisti di questa squadra erano Chinaglia Rececconi maestrelli come allenatore nomi che a me non dicevano niente ma adesso li conosco che facevano cose che se noi pensassimo che le stesse cose che facevano loro all'epoca le facessero oggi diremmo non è possibile non è vero e invece sono successe realmente quindi Angelo Carotenuto le canaglie Sellerio ultimo perché non posso non non vedo che l'avevo riportato visto che te l'avevo portato l'altra volta Gabriella Grayson ucciderò il gatto di Schrödinger Gabriella Grayson a me piace un sacco perché mi ha fatto capire certe cose della fisica quantistica prima di lei e prima di Rovelli Carlo Rovelli che ogni tanto ci confrontiamo anche su di lui io di fisica quantistica non sapevo niente adesso neanche però faccio finta certo almeno che è Schrödinger adesso lo sappiamo esatto e lei cosa ha iniziato a partire da Einstein lei è fissata con la fotografia del convegno Solvay del 1928 dove in una fotografia ci sono praticamente 30 premi Nobel e c'è Marie Curie Albert Einstein Bohr Schrödinger appunto e chi più ne ha più ne mette non è un fotomontaggio non è un fotomontaggio realizzato dopo così per divertimento è proprio una foto vera è proprio una foto vera di questo convegno Solvay che si tiene ogni anno credo che si tenga ancora e allora lei sta scrivendo di ognuno dei protagonisti di quella fotografia ed è arrivata finalmente a Schrödinger Schrödinger lo tratta per la prima volta non solo con un memoir come ha fatto nei suoi vecchi libri tipo la fantastica cena dei fisici quantistici piuttosto che ha parlato di Eisenberg di Einstein e sua moglie qua invece si è inventata un romanzo cioè una protagonista una donna che spiega il guarda che non mi viene in mente la regola non mi viene in mente come si dice giustamente perché ho detto faccio finta di capire la formula del gatto di Schrödinger lo spiega attraverso la sua vita e lei capirà finalmente che cosa voleva dire che il gatto può essere contemporaneamente vivo e contemporaneamente morto ed è veramente pazzesco questo libro ce ne avrei altri vi faccio vedere solo le copertine è uscito Cesare Cremonini io prenderei questo oggetto solo per la copertina giusto da tenere in libreria perché è bellissimo è uscito il nuovo di Nick Corby che è uno dei miei autori preferiti e finalmente è finalmente è tornato la sua penna non può mancare dal mio scaffale è uscito qualche settimana fa si intitola l'appello il nuovo di Alessandro D'Avenia nuovo romanzo ambientato in una classe dove lui chiama i suoi allievi a fare un gesto civile civico cioè prendetevi la responsabilità di quello che fate ed è bellissimo infatti nella copertina c'è il titolo l'appello con questo vaso di fiori che è ovviamente schematizzato su una lavagna e la quarta di copertina è presente ed è secondo me è una grandissima un grandissimo invito ultimo ma non ultimo e questo qua è anzi gli ultimi due questi qua li dico perché non posso venire qui per due volte di file e non parlare di basket giusto è giusto non si può il primo è che è uscito proprio qualche settimana fa di un giornalista americano che si chiama Kent Bebb della 66 and Second Know the Game ed è una biografia di Allen Iverson che è soprannominato per i cestisti chi segue il basket lo sa di Enswer la storia è veramente pazzesca di un giocatore che è stato tanto grande quanto complesso perché lui come la maggior parte di molti giocatori che escono dal ghetto ha avuto una vita difficilissima ma è arrivato alla fama mondiale ed è bellissimo e poi ultimo perché i libri non hanno data di scadenza questo è uscito già da qualche anno ma io lo suggerisco sempre a chiunque perché i libri sportivi scusami ok i libri sportivi vanno letti perché hanno la loro come si dice insegnano un sacco di cose come la narrativa come la saggistica l'arte della vittoria di Phil Knight che non è niente popo di meno che l'inventore della Nike appunto e quindi tanto valeva grazie Anto ce l'ho fatta? la cosa divertente abbiamo qui il logone Pesaro Città che legge per cui dopo in chiusura mi dai l'appuntamento per oggi se non sbaglio c'è qualcosa ma domani domani ma la cosa che volevo sottolineare che fa ridere è che quando ci siamo rivisti adesso anche di cosa parliamo come di cosa parliamo parliamo di libri e non ci sarà il tempo per finire per cui dovremo per forza pensando alla rubrica limitarci un po' benissimo allora invece appuntamento per domani sulla pagina facebook di Pesaro Città che legge con Francesco Muzzopappa del suo libro avevamo parlato l'altra volta benissimo benissimo allora ringraziamo Antonio Di Gregorio consulente editoriale Parola d'Arancio Pesaro Città che legge che è stato con noi prima di lui Giovanni Erduini l'arte del riposo e prima ancora Laura Fontana titolare Eliograf erano gli ospiti di oggi 14 dicembre per la nostra diretta le repliche sono alle 16 di oggi pomeriggio alle 22 alle 15 15 di domani e poi domenica nella lunga maratona dedicata a casa Rossini grazie ancora restate con noi restate sempre con i programmi di Rossini TV e ci vediamo mercoledì mattina con la diretta ciao